Buonasera alla gente di Calcio Mercato l'Originale. Abbiamo attraversato una giornata meravigliosa a Fano, coccolati come ormai sta capitando da diversi... Ritorno a Fano, Calcio Mercato l'Originale. La storica trasmissione di Sky Sport che tanto successo ha riscosso l'anno scorso quando fu organizzata all'interno della chiesa di San Francesco. Un ambiente suggestivo che valse come una insuperabile promozione della città in tutta Italia. La nuova puntata si svolgerà dal 3 al 7 giugno, sempre a San Francesco. Ma intanto il 12 aprile, al Teatro della Fortuna, verranno presentate tutte le tappe del programma che in giro per l'Italia i popolari conduttori Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Faina Valerio Spinelli organizzeranno quest'anno. Condurranno la serata lo stesso Bonan e la giornalista di Sky Sport Marina Presello. L'ingresso è libero a tutti. Dal 2 al 6 giugno torna Sky Mercato l'Originale, una manifestazione che siamo stata veramente importante per la nostra città, di grande promozione. L'ha raccontata in tutte le sue vesti, ha raccontato la sua storia, ha raccontato il Carnevale, ha raccontato la marineria. È per questo che abbiamo deciso di riportarla, ma facendo un passo in più. Quest'anno, il 12, quindi tra una settimana, il 12 di aprile, si terrà a Fano il Gran Galà di Sky al Teatro della Fortuna, con tutte le città e regioni che ospiteranno appunto queste puntate all'aperto itineranti di Sky Calcio Mercato, con Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, con Faina, con tutti i personaggi che conosciamo. Insomma, due momenti che saranno una grande vetrina per la nostra città. Grazie a tutti.